Dalla piazza del popolo con Io non rischio alla tavola rotonda Palazzo Gradari. La protezione civile informa e dialoga affinché si possano ridurre i rischi per tutelare al meglio i cittadini. Il tutto nella sesta edizione della settimana nazionale della protezione civile, che inizia proprio oggi partendo da Pesaro, capitale italiana della cultura 2024. Abbiamo cominciato da Pesaro, che è la città italiana della cultura per l'anno 2024. Pesaro, proprio per questo motivo, fare cultura, quindi significa trasmettere quelle che sono le principali azioni di conoscenza per la gestione dei territori, sia dal punto di vista della previsione e della prevenzione, sia dal punto di vista della gestione dell'emergenza, è sicuramente un risultato importante a cui bisogna tendere. Parole spese dal capo della protezione civile anche sul tema del cambiamento climatico, con il quale bisogna imparare a convivere. Bisogna dire che il 95% del nostro territorio nazionale è un territorio fragile, soprattutto dal punto di vista idrogeologico. E quindi è ancora più importante fare in modo che questi nuovi eventi climatici, che si ripetono più frequentemente e con maggiore intensità, vengano governati meglio dal punto di vista della gestione del territorio. Questo però significa che bisogna fare una nuova cultura, bisogna cercare di trasformare ciò che è straordinario, che poi è la gestione dell'emergenza, in qualcosa di ordinario, quindi nel governo ordinario dei territori, che ovviamente è necessario fare e che impiegano anche diversi anni perché ciò avvenga. Però se mai cominciamo, mai riusciamo a gestire questa situazione. Sul piano della comunicazione, la prefettura e la provincia di Pesaro Urbino sembrano invece poter fare da esempio nazionale. Sentivo il prefetto della provincia, che ovviamente ha il potere di coordinamento delle gestioni emergenziali, che ha trovato un meccanismo semplice quanto efficace, mettere tutti i sindaci della provincia in una chat, in maniera tale che i sindaci a monte possono comunicare in tempo reale ai sindaci a valle quella che è la condizione del territorio, per dare il tempo ai sindaci a valle, quindi quelli costieri, di mettere in campo rapidamente azioni di contrasto. Rapporti ottimi nella provincia tra l'amministrazione pesarese e la protezione civile, anche a fronte della collaborazione che c'è stata negli ultimi anni. Pesaro ha un gruppo di protezione civile molto forte, molto radicato, 170 volontari, che collaborano in maniera stretta con tutto il centro operativo comunale, quindi c'è una sinergia forte tra amministrazione e volontari, e questo ci ha permesso nei momenti di difficoltà che ci sono stati purtroppo negli ultimi anni, di dare risposte anche in tempi brevissimi rispetto alle emergenze che si sono verificate nel nostro territorio. Protezione civile che non è solo a Palazzo Gradari, ma anche in piazza per un cambio generazionale e informare i cittadini. In piazza è un momento ovviamente per reclutare i giovani, perché l'importante è avere un ricambio generazionale, devo dire che gli ultimi iscritti alla protezione civile comunale sono tutti ragazzi molto giovani, e questo è il messaggio sicuramente più bello che passa. In piazza c'è un momento informativo sul tema Io non rischio, dove si parla di sicurezza e di quale approccio avere nei momenti di difficoltà e di criticità.